Risolve il titolare, abbracciami, un gol di Turan straordinario, di nuovo alla fine un titolare la risolve, un'azione clamorosa con un errore difensivo di Marco che sembrava un po' cotto la metti in mezzo e questo è un gol da rapace, un gol straordinario, tacco di Lautaro, cross col contagiri senza guardare di Marco e Lautaro mentre stavo per fare il video della partita regala questa, spero, vittoria. Meritata abbastanza, rigore sbagliato, meglio non parlare, Zienischi è il nostro Douglas Lewis, sapete quanto io lo ami, quanto lo abbia caldeggiato ma Zienischi è oggi il nostro Douglas Lewis, un pacco allucinante, lui sbaglia un gol clamoroso con Inzaghi che si incazza, io mi sono incazzato di più perché poteva chiudere la partita. Un altro che veramente comincia a infastidire è Arnautovic al di là delle facce, del dispiacere, dell'interismo, va benissimo però oggi tira un rigore, potevano tirarlo altri, sì però ha fatto gol in nazionale, non sono stufo nel senso in Europa non puoi permetterti di fare errore. In Europa è una situazione di dettagli, quindi il dettaglio non puoi assolutamente sbagliarlo, quindi il rigore lo tira il più bravo, non la toccante, non quello, non si fanno i complimenti o meglio i favori per poi avere i complimenti, non mi interessa. Comunque partita su un campo dove la palla viaggiava come un flipper, formazione che giustamente pensa alla Juventus che sarà rimaneggiata ma un po' lo saremo anche noi perché poi si è fatto veramente male. Carlos Augusto anche De Vrani ha avuto un problemino poi rimasto in campo. Fatto sta che la partita è su questo campo difficile anche per la gestione del pallone. È una partita di Champions molto aperta, il secondo tempo poi è stato apertissimo, loro hanno preso un palo, poi il rigore. Occasioni sbagliate da una parte dall'altra, palla che va veloce e errore da una parte dall'altra, Lautaro! E' Turam! Mamma mia! Un miracolo straordinario del portiere svizzero impedisce a Turam una doppietta ma la partita finisce qui. Si salutano tutti, l'Inter va a vincere. Di nuovo una partita con il suo più grande bomber dell'anno perché quest'anno il cannoniere che non ha mai tradito, il cannoniere anche qua al di là di Lautaro che si è ripreso, ma il cannoniere di Genova, il cannoniere con l'Atalanta, il cannoniere dei tre gol col toro, il cannoniere dei cannonieri è Marco Turam. Un calciatore che qualcuno si pentirà di non aver preso e meno male, ha una clausola, speriamo non vada mai via, praticamente fare parto da solo, è difficile giocare senza di lui, festa nel settore nero-azzurro stracolmo. Ovviamente è stato necessario inserire Turam, è stato necessario inserire bastoni, è stato necessario purtroppo per Carlos Augusto inserire Di Marco che con i giri al minimo comunque far girare la palla come pochi. L'Inter porta a casa una vittoria che a un certo punto stava per scappare, l'Inter porta a casa una vittoria che le permette oggi di entrare, credo, devo vedere gli altri risultati, nei primi. Intanto bestemmi al portiere di Young Boys, lo capisco, povero, ha fatto i numeri, ha parato un rigore, vabbè, è veramente ridicolo, però alla fine ha ragione un po' a incazzarsi. Perché lo Young Boys comunque ce l'ha messa tutta, tante imprecisioni anche da parte loro, tante palle perse, tante palle gestite male. Però alla fine l'Inter con questo risultato fa tre gare, di cui due in trasferta, una a Manchester e una in casa e fa sette punti. Credo che sarà tra le prime, penso tra le prime otto, ma devo vedere un po' i risultati, dobbiamo vederli insieme. Però insomma se non siamo nelle prime otto siamo lì, ma con due partite fuori, di cui una a Manchester con City. E quindi è un Inter che oggi, nonostante tutto, dimostra da un lato che con, tra virgolette, riserve non va molto lontano. Sfortunata nell'infortunio di Carlos Augusto, poi alla fine si decide di mettere dentro il motore, con i pistoni quelli che funzionano, è chiaramente Turano, non è Arnautovic. Taremi, Taremi, non mi sento di compromessarlo per il tacco, non mi sento di compromessarlo per tutto quello che ho provato a fare. Anche da lui mi aspetto di più, però in una formazione, sai un conto è la formazione titolare e metto Taremi. Un conto è vedere Taremi in una formazione non titolare, è quello il discorso. Comunque, vabbè, fratesi sono contento che sia ancora vivo perché un paio di volte mi è sembrato che non ci avesse più la gamba. Per il resto Sommer l'ho visto molto attento, impotente in questi tiri che partivano su questo campo tipo calcetto. De Vrij ha gestito bene, anche lui è normale che su questi campi possa essere preso un po' in contropiede. Bissek, cavallo pazzo, Pavard è uscito un attimino scoglionato, Pavard non è un buonissimo momento. Mentre Mkhitaryan mi sembra che abbia ripreso a giocare con le palle in mano e la stizza in bocca perché ha fatto un paio di finte di corpo alla sua età e ha mandato fuori giri praticamente mezzo centrocampo svizzero. Per il resto loro hanno giocato un calcio abbastanza semplice, fatto poi di fisicità, fatto di tentativi, fatto anche di quei dribbling che avete visto, cercati, provati, ma dove poi alla fine al posto dei piedi ci avevano i mattoni perché poi se fai un dribbling così e tiri così male in porta bastava piazzarla. È ovvio, è una squadra che oggi l'Inter batte 1-0 e questa forse è la vittoria più importante, più sporca, che ti dà tre punti. Questo non è un girone, è un campionato, quindi contano i tre punti che tu li faccia col City e che tu li faccia con l'Uigan Boys. Ora arriverà l'Arsenal e quindi sapranno che noi siamo messi bene in classifica. era o sarebbe stato un peccato non vincere oggi. Primo perché meritavamo i punti, però il calcio non è fatto di punti. E poi perché è da morale con la Juve perché alla fine, ripeto, in Champions abbiamo di nuovo detto la nostra. Adesso arriva la Juventus, vediamo un po' la conta dei feriti e dei contusi. Quello che esce da questa partita è di nuovo il fatto che quando vai a mettere degli elementi che non giocano spesso, degli elementi che non fanno parte degli undici, dei titolarissimi, fai fatica. Fai fatica perché non si conoscono, ci sono troppi cambi. Io non condivido questa gestione dei cambi. Secondo me tu hai gli undici titolari, lo ripeterò fino alla nausea, e quando gli undici titolari non ce la fanno, in quel determinato ruolo o a seconda dello schema che può variare in alcuni dettagli, tu metti dentro quello che gioca al posto di quello che non se la sente, non può, ha la diarrella o magari deve riposare. Se no tu giochi con i titolari. Poi dopo, Mourinho per esempio era uno che prima giocava con i titolari, vinceva la partita e poi al massimo faceva i cambi. Qua è il contrario, si va a rincorrere, no? Cioè si mettono le riserve, si spera, segna la croce, poi ti accorgi che tre punti in Champions valgono, ti accorgi che pareggi con lo Ian Boyce e quasi quasi rischiavi col palo di perdere al di là del rigore, allora metti dentro le forze fresche e poi ti accorgi che la squadra cambia totalmente registro. E cominci a tarellare, cominci a giocare e poi alla fine i campioni sono questi, come diceva. I campioni sono a sì, diceva no, il nino Maraviglia. Un tacco di Lautaro, candidato pallone d'oro che ha vinto Vinicius. Un cross di Marco che oggi è uno dei più forti terzini al mondo. E un gol di Turam che vale 80 milioni. E probabilmente oggi se al PSG gli dici, vuoi Osiman o vuoi Turam, prendono Turam. Perché oggi Turam è un campione straordinario. E oggi fa, addirittura, aggiunge un altro colpo al suo repertorio. Dopo i gol da qualsiasi posizione, in qualsiasi momento, aggiunge il gol entrando. Da freddo, una palla e mezzo, un gol. Complimenti a Tikus e Forza Inter sempre. E Juve Merda.